Massimo soffre di una forma di invisibilità psicosomatica. Quando sente attenzione su di sé, scompare. Roberta soffre di una forma di invisibilità opposta. Se nessuno le dà attenzione... Andiamo qua. Oh, io ho fatto niente, oh. Lo dovevo aiutare. Sì, come no. Oh, ma che dopo il tossico ti lascio incazzare dall'invisibile? Scusami un secondo. Ho un amico che ha un po' lo stesso fenomeno tuo, scompare. Dario, Roberta, piacere. E lì c'è Massimo, però adesso è invisibile. Non sei come gli altri, non mi ignori. E allora mi chiedevo se potevamo vederci? Non so, forse per una volta mi piacerebbe essere al centro dell'attenzione. Non credi che questo sia il limite della tua generazione? So solo che se nessuno mi dà attenzione, divento invisibile. Massimo, succede anche a me, sai, di annullarmi per amore. Tipico di una donna. Io ti guardo. Medicina e invisibilità.